Presta molta attenzione perché quello che stiamo per raccontare è scioccante. La morte di Papa Giovanni Paolo II è stato uno degli eventi più tristi e drammatici della storia moderna, lasciando il mondo in un lutto. Tuttavia, non fu solo la perdita di un leader amato a sconvolgere il mondo e la Chiesa, ma furono le parole sussurrate sul suo letto di morte, che fino ad oggi in pochi conoscevano. Queste parole suscitano shock e riflessione in egual misura. In questo video esploreremo proprio il significato profondo di queste ultime parole di Papa Giovanni Paolo II, la sua vita e l'impatto straordinario che ha lasciato nel mondo. Come leader spirituale della Chiesa Cattolica Romana e capo dello Stato della città del Vaticano dal 1978, Fino alla sua morte nel 2005, Papa Giovanni Paolo II è stato una figura che ha superato i confini. Per molti, egli era più di un semplice leader religioso. Era un simbolo di fede, resilienza e una bussola morale in tempi turbolenti. La sua influenza si estendeva oltre le mura del Vaticano, incidendo sulla politica globale, il dialogo interreligioso e i diritti umani. Ma avvicinandosi alla fine della sua vita, accadde qualcosa di profondo, un momento che continua a incuriosire e ispirare ancora oggi. Per comprendere la gravità delle ultime parole di Papa Giovanni Paolo II, dobbiamo esplorare il viaggio della sua vita. Una vita definita dalla dedizione, dalla compassione e da un impegno incrollabile verso la sua fede. Nato Karol Josef Wojtyla il 18 maggio 1920 a Wadowice, in Polonia, la sua vita giovanile fu segnata da perdite personali. A 20 anni aveva perso entrambi i genitori e il fratello. Questa avversità, tuttavia, non lo indurì. Al contrario, approfondì la sua spiritualità e il suo impegno a servire gli altri. Cresciuto in una Polonia devastata dalla Seconda Guerra Mondiale e poi sotto l'ombra del regime comunista, il giovane Karol sviluppò un profondo senso di responsabilità nel difendere ciò che era giusto. La sua passione per aiutare gli altri lo portò a studiare teologia, diventando infine sacerdote nel 1946. La sua ascesa nei ranghi della Chiesa fu rapida e nel 1958 venne nominato Vescovo Ausiliare di Cracovia. La sua leadership, il suo intelletto e la sua profonda empatia gli valsero rapidamente la reputazione di una delle menti più brillanti della Chiesa. Nel 1978, Papa Giovanni Paolo II fece storia diventando il primo Papa non italiano in oltre 400 anni. Questo momento senza precedenti preparò il terreno per un pontificato che non solo sfidò lo status quo all'interno della Chiesa, ma coinvolse il mondo in conversazioni sulla pace, la giustizia e la dignità umana. Il papato di Giovanni Paolo II fu caratterizzato dai suoi instancabili viaggi intorno al mondo, visitando oltre 100 paesi. Portò il messaggio di pace e amore di Cristo a persone di tutte le razze, fedi e background. Era particolarmente appassionato nell'advocare per i diritti umani, nel condannare la guerra e nel promuovere il dialogo interreligioso. La sua capacità di connettersi con persone di diverse estrazioni lo rese caro a milioni di persone. Ma la sua missione non fu priva di pericoli. Uno dei momenti più drammatici del suo pontificato avvenne il 13 maggio 1981, quando venne colpito da un attentatore turco, Mehmet Ali Akka, in piazza San Pietro. Il tentato assassinio scosse il mondo, ma in un atto straordinario di perdono, Papa Giovanni Paolo II visitò il suo attentatore in prigione e lo perdonò. Questo potente gesto fu una testimonianza della sua convinzione nel potere della misericordia e della riconciliazione. Negli anni, il Papa affrontò anche numerose sfide di salute, inclusa una seria battaglia contro il morbo di Parkinson. Tuttavia, anche quando la sua forza fisica veniva meno, la sua risolutezza spirituale rimaneva salda. Nei primi anni 2000, le sue apparizioni pubbliche erano segnate da visibili difficoltà fisiche, eppure continuava a svolgere i suoi doveri con notevole grazia e determinazione. Il suo peggioramento della salute sembrava solo approfondire l'ammirazione pubblica nei suoi confronti. Gli ultimi giorni e le parole che scossero il mondo. Nel febbraio 2005, Papa Giovanni Paolo II venne ricoverato in ospedale con sintomi influenzali che rapidamente si aggravarono. Nonostante le sue condizioni fragili, insistette nel continuare il suo lavoro pastorale, anche dal suo letto d'ospedale. Tuttavia, col passare dei giorni, divenne chiaro che la sua condizione stava peggiorando. Le difficoltà respiratorie erano aggravate da un'infezione del tratto urinario che portò a uno shock settico, e alla fine di marzo fu evidente che la fine era vicina. Mentre giaceva nel suo appartamento papale in Vaticano, il mondo tratteneva il fiato. Le persone si radunarono fuori, pregando e sperando in un miracolo. All'interno, i più stretti collaboratori e amici del Papa rimasero al suo fianco, offrendo conforto nei suoi ultimi momenti. Fu durante queste ultime ore che Papa Giovanni Paolo II pronunciò parole che avrebbero risuonato molto dopo la sua morte. Secondo coloro che erano presenti, parlò dolcemente, dicendo «Lasciatemi andare dal Padre». Queste parole semplici ma profonde furono interpretate come il suo ultimo atto di resa a Dio, una pacifica accettazione della sua imminente morte e un riflesso della sua profonda fede nella vita oltre la morte. Per molti queste parole non furono solo l'addio del Papa, ma un messaggio di speranza per tutti coloro che le udirono. Esse parlavano della sua incrollabile fede nella promessa della vita eterna e della sua prontezza a incontrare il suo creatore. Le sue parole echeggiavano un senso di pace, uno che trascendeva la paura della morte e invitava gli altri a condividere la stessa speranza che lo aveva guidato per tutta la vita. Un impatto duraturo nel mondo. La morte del Papa, avvenuta il 2 aprile 2005 all'età di 84 anni, segnò la fine di un'era. Il suo funerale, celebrato l'8 aprile, fu uno dei più grandi raduni di capi di Stato e leader religiosi nella storia, con oltre 4 milioni di persone che si recarono a Roma per rendere omaggio. L'enorme afflusso di dolore e rispetto da parte di cattolici e non cattolici fu una testimonianza della profonda influenza che aveva avuto nel mondo. Ma l'eredità di Giovanni Paolo II non vive solo nei ricordi di coloro che lo conoscevano o nelle persone che ha ispirato, ma anche nel lavoro continuo della Chiesa. I suoi insegnamenti, i suoi appelli per la pace e i suoi sforzi per costruire ponti tra le diverse fedi continuano a influenzare le conversazioni globali ancora oggi. Fu determinante nella caduta del comunismo in Europa orientale, in particolare nella sua Polonia Natale, e la sua ferma difesa della dignità umana e della libertà religiosa continua a ispirare leader in tutto il mondo. Il Papa ha anche lasciato una vasta eredità di scritti, inclusi i suoi numerosi encicliche che continuano a guidare le discussioni teologiche e morali all'interno della Chiesa. Forse più notevolmente, il suo impegno verso la Divina Misericordia, esemplificato soprattutto nell'istituzione della Domenica della Divina Misericordia, rimane uno degli aspetti più duraturi della sua eredità spirituale. La sua enfasi sulla misericordia di Dio, come espressione ultima dell'amore e del perdono, continua a offrire speranza a milioni di persone. I misteri delle sue lettere finali. Nelle settimane precedenti alla sua morte, si dice che Papa Giovanni Paolo II abbia scritto diverse lettere. Queste lettere, che molti credono contengano intuizioni sugli eventi futuri e una guida spirituale per la Chiesa. Questi scritti sono stati oggetto di molta speculazione, con alcuni che credono che contengano indizi sui pensieri del Papa riguardo al futuro della Chiesa e del mondo. Sebbene il contenuto di queste lettere rimanga in gran parte sconosciuto, la loro esistenza ha solo aggiunto alla mistica che circonda gli ultimi giorni del Papa. Ciò che è noto è che Giovanni Paolo II fu profondamente riflessivo nei suoi ultimi momenti, trascorrendo gran parte del tempo in preghiera e contemplazione. I suoi scritti di questo periodo, anche se privati, si ritiene offrano una finestra nella sua anima colma di speranza, fede e un profondo amore per l'umanità. L'ultimo messaggio del Papa Speranza e misericordia Nel suo ultimo messaggio scritto, destinato a essere consegnato durante la Domenica della Divina Misericordia, il giorno successivo alla sua morte, Papa Giovanni Paolo II scrisse sull'importanza di fidarsi della misericordia di Dio. Egli esortò il mondo ad abbracciare l'amore e il perdono che solo Dio può offrire, ricordando a tutti che nei tempi di paura e incertezza dobbiamo rivolgerci a Dio per trovare speranza. Questo messaggio, consegnato postumo, fu una conclusione appropriata a una vita dedicata alla promozione della pace, del perdono e della misericordia. Fu un ultimo richiamo ai valori che avevano guidato la sua esistenza, un invito a tutti ad aprire il cuore all'amore di Dio e a estendere quell'amore anche agli altri. La vita e l'eredità di Papa Giovanni Paolo II continuano a ispirare milioni di persone in tutto il mondo. Le sue ultime parole, lasciatemi andare dal Padre, riassumono un uomo che ha vissuto la sua vita al servizio di Dio e del suo prossimo e che ha affrontato la morte con la stessa grazia e fede che avevano definito il suo tempo sulla terra. I suoi contributi alla Chiesa, la sua influenza sulla politica globale e i suoi profondi messaggi di speranza e misericordia rimangono oggi tanto rilevanti quanto lo erano durante la sua vita. Mentre riflettiamo sui suoi ultimi giorni, siamo ricordati del potere della fede, dell'importanza del perdono e della speranza duratura che risiede nel cuore del messaggio cristiano. Prima di salutarci, c'è un'altra questione che dovresti conoscere. Si tratta di una nuova rivelazione di Viganò su Papa Francesco. È davvero terribili quello che è stato rivelato. Clicca nel video sullo schermo per conoscere la verità. Ricorda anche di iscriverti al canale e mettere mi piace al video se ancora non lo hai fatto. Ciao!